Gabriele Rocchi è un obiettivo dei lupi, il difensore centrale nella passata stagione tra le file della Cavese e tra le prime scelte dell'Avellino. In queste settimane sono stati avviati i contatti con l'entourage del giocatore, che ha mostrato la propria volontà di trasferirsi in Irpinia. Ovviamente sull'atleta ci sono altre società di Lega Pro, ma al momento la formazione bianco-verde sembra avere una marcia in più nelle preferenze del calciatore. Cresciuto nel giovanile del Brescia, nella passata stagione Rocchi ha disputato 17 partite con la maglia degli Aquilotti, prima che un infortunio muscolare lo allontanasse dai terreni di gioco. La Cavese ha provato a trattenere il calciatore, cercando di attivare l'opzione di rinnovo, ma, date le sole 17 presenze, la società campana non è riuscita a far valere le proprie volontà. Lo stesso Tribunale federale nazionale, sezione Tesseramenti, ha rigettato il ricorso della Cavese, considerando il contratto del calciatore scaduto il 30 giugno. L'Avellino si è inserita in questa circostanza, corteggiando Rocchi negli ultimi giorni. La prossima settimana sarà fondamentale per comprendere il destino del calciatore con la squadra Irpina. La trattativa prosegue e i lupi sembrano determinate ad acquisire le prestazioni del calciatore.